L'albero più vecchio della Brianza, l'albero più vecchio, vado nel bosco. Vediamo se trovo gli animaletti nel bosco, eccone uno, ecco bello, è un lombrico, bellissimo, come installazione. Vediamo il bosco della Brianza, che bella la tenuta pomelasca, eccezionale, qua non si poteva entrare. Un altro animaletto, un altro, là un altro. Un altro, vediamo quanti, che bello oggi, mi diverto come un bimbo, questa è la felicità. Un altro, vediamo, vediamo, vediamo qua nella tenuta pomelasca. Un altro, la lingua. Che bello oggi, come mi sono divertito qui, in questo bosco degli animaletti, eccezionate, eccezionale. Veramente mi sono divertito come un bimbo. Mi sono divertito, mi sono divertito, sono ritornato bambino. Ecco qua, facevo il picnic. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme. Per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole il fiore. Ci vuole il fiore. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Che bello oggi, che bello, che bello, guardate qua. Ah, che bello, qui, qui un altro, un insetto, bellissimo. Un po' di sole ci vuole, sono le ore 16, qui un altro. Che bello, quella pianta, tra un mese avrà un colore stupendo. Amaranto, le foglie, con le punte rosa. Lo so già, questo posto è conosciuto da me. Bellissimo, vi saluto da tenuta pomerasca. Auguro che veniate qui a vedere questa bella tenuta. Auguro.